Predissesto approvato la sera del 30 dicembre contro l'opinione di centrodestra e Movimento 5 Stelle. Il Comune di Pescara firma definitivamente l'atto che da un lato porterà una cifra di circa 30 milioni di euro nelle casse comunali grazie al fondo rotativo del Governo nazionale e dall'altra un debito da istinguere in 10 anni che innalzerà tasse e servizi per i cittadini. Purtroppo sono arrivati per i cittadini pescaresi 10 anni di lacrime e sangue perché si è ingessata completamente la città per 10 anni nonostante noi abbiamo tentato in tutti i modi di far retrocedere e riflettere la maggioranza sulle conseguenze di questo predissesto. Dice il centrodestra non c'è stata la minima volontà di trovare un'altra soluzione. Esistono opere che il Comune avrebbe potuto mettere in vendita, tagli su spese di gestione personale fino anche le indignità di ruolo. Niente di tutto questo ha cambiato l'intenzione della Giunta Alessandrini. Nei prossimi 90 giorni verrà reso pubblico il piano di rientro per l'estinzione del debito. Una delibera che non avrebbe dovuto mai e poi mai essere portata in aula è meno che meno solamente a sei mesi dall'inizio dell'amministrazione attuale. L'amministrazione Alessandrini sostanzialmente ha alzato le mani, ha alzato bandiera bianca e non ha neanche provato a cercare di rimettere in sesto i conti del Comune di Pescara con delle manovre coraggiose, magari anche a livello impopolare ma comunque che i cittadini di Pescara avrebbero sicuramente apprezzato qualora fossero state quantomeno tentate. Qui non si è tentato nulla.